È stato un inseguimento abbastanza attivo, nel senso che il veicolo procedeva con una natura molto pericolosa e inoltre durante l'inseguimento ci veniva lanciato del materiale dal retro del furgone, materiale che consisteva in queste bobine di rame che erano provento comunque di furto e altro materiale presente sul furgone. Eccole le bobine di rame che sono state gettate dai malviventi contro l'auto dei carabinieri che li stava inseguendo 15 chilometri di fuga tra le province di Padova e Vicenza, partito nel comune di Mestrino e conclusosi a grumlo delle abadesse frazione di Van Cimuglio contro il muro di un edificio abbandonato, arrestati dopo una colluttazione con i militari due vicentini di 27 e 26 anni con numerosi precedenti penali. È una guida difficile, una guida sicuramente che è avvenuta in sicurezza, quindi per non mettere in pericolo sia la nostra incolumità che quelle anche degli altri utenti della strada, però è andata a buon fine. I militari avevano notato il furgone bianco che risultava rubato la sera prima in un'azienda di Campodoro nell'Alta Padovana. Il rame, 17 bobine, proveniva da un furto fatto in una ditta di Villa Franca Padovana, un bottino del valore complessivo di 10.000 euro. Ci ha insospettito il fatto che il furgone andava con questa natura molto spedita, quindi l'attività si è protratta all'inseguimento del furgone al fine di identificare i soggetti a bordo. Quando abbiamo attivato i dispositivi sonori e visivi, il furgone ha proceduto la corsa, non si è fermato e quindi abbiamo capito che era il mezzo giustamente rubato dalla ditta. Il rame è tra i materiali più rubati alle aziende, molto quotato nel mercato clandestino. Siccome non è soggetto a una particolare trasformazione del materiale, viene facilmente riciclato. Grazie a tutti.